buonasera amici di youtube oggi è stata una domenica molto lavorativa stanno ancora provando di installare nest hello il videocitofono americano all'entrata della casa non è una roba facile non ci sono ancora riusciti nel frattempo io ho acceso ho acceso il camino perché stasera sembra che dia un po di acqua e la temperatura è sui 18 gradi quindi non è freddissimo però la casa resta un po umida fredda e quindi ho acceso il cammino per semperare vi faccio vedere fiamme dopodiché stasera attenzione di cucinare le reginette con il ragù di carne e salsiccia che è una tipica ricetta napoletana fatta poi con del parmigiano reggiano molto buona e vi vi ritrovo dopo assieme in cucina vedete ancora lì c'è il citofono staccato perché stanno lavorando hanno appena trovato il filo da oggi alle due e mezza che passa dal citofono a tutti i pozzetti e per installare il nest hello che è bellissimo vi faccio sentire il suono per adesso è attaccato alla cucina l'abbiamo già configurato sentite salvo ansato teo sai la pasta che faccio dalla granola le mafaldine le chiamano in puglia e le reginette le chiamano a napoli però la pasta è la stessa ok è una pasta grossa 12 minuti poi una volta condito con il sugo ci andiamo a mettere il parmigiano reggiano grattugiato adesso premiamo la pietra questa pentola c'è nella tacca sono quattro uno uno mezzo due litri più litri e mezzo quindi accendiamo andiamo a potenza P 1130 secondi portiamo questo a potenza quattro anzi momento è subito il sal grosso così e poi c'è la luce che provo a abbassarla un attimo vediamo ok è fatta tutto in modo zigrinato piatta la taglia con gli spaghettini più o meno del stesso genere voilà voilà anche questo è 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 Vino bianco o vino rosso? Giallo. Giallo non c'è. Nemmeno. No. Ok. Mi fanno bene. Grazie. Grazie. Ok. E qui c'è il nostro sugo. Ok. E qui c'è il nostro sugo. Ok. Ok.